Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Dato che in questa stagione andiamo ad approfondire gli elementi più complessi dell'arte del masteraggio è arrivato il momento di parlare di un altro dei suoi elementi fondamentali prima di andare avanti con il discorso. Sicuramente vi siete già accorti che tutti i libri che avete letto, tutti i film che avete visto e anche tutte le quest che avete giocato hanno spesso degli elementi in comune. Questi sono chiamati i trop. In italiano sarebbe tropi ma è un termine decisamente desueto quindi per questi video ci adatteremo alla pronuncia inglese. È possibile che gli abbiate anche sentiti chiamare cliché ma in realtà non è del tutto corretto. Quindi prima di procedere oltre con l'arte del masteraggio vera e propria questa settimana andiamo a vedere cosa sono i trop e perché è impossibile creare una storia di qualunque tipo senza utilizzarli. Partendo dalle basi un trop è un elemento semiotico distinto all'interno di un racconto. In parole povere può essere qualunque cosa, un'immagine, una descrizione, un modo di dire, un qualcosa che si porta dietro un suo significato distinto. Diciamo una sorta di pacchetto di significati che sono immediatamente chiari a tutti e non devono essere ulteriormente spiegati. I trop esistono anche nella vita reale. I modi di dire per esempio sono trop che vengono utilizzati nella vita reale. Quando si parla di narrazione, che sia un gioco di ruolo, che sia qualsiasi cos'altro, fondamentalmente quasi tutto quello che è presente in un racconto è per qualche motivo un trop. Quando voi iniziate la vostra quest del gioco di ruolo non dite ai vostri giocatori a voi sarete i protagonisti della storia, è scontato che loro saranno i protagonisti, è scontato che la storia abbia un protagonista ed è scontato che questo protagonista in qualche modo agisca all'interno della storia durante il gioco, come è scontato che il protagonista di un film agisca durante il film. Il fatto che ogni racconto abbia un protagonista è uno di quelli che sono definiti i trop generici o i trop principali. esistono poi trop più specifici legati per esempio al genere di racconto. Se la vostra quest è un racconto giallo, i giocatori daranno per scontato che sia stato commesso un qualche genere di crimine, magari un omicidio, un furto, o che comunque ci sia una situazione misteriosa e che i loro personaggi, i loro protagonisti, dovranno raccogliere indizi per risolvere il mistero della storia. Il fatto che sia presente un mistero è un trop ed è un trop principalmente usato nel racconto giallo. Se la vostra storia è un western, magari i personaggi daranno per scontato di doversi spostare a cavallo e poi affrontare la loro nemesi alla fine della storia in un duello lungo la strada polverosa di una città di frontiera. I generi letterari stessi sono definiti dai trop che vengono utilizzati. Un thriller si differenzia da un horror perché nonostante siano entrambe storie che mettono tensione, che fanno paura a chi le fruisce, usano trop diversi per generare questa paura. Ci sono trop che non sono legati ai generi ma sono legati a specifici luoghi. La rissa nella locanda è un trop, il tempio perduto nella giungla è un trop. I trop possono essere legati anche ai personaggi. Il mago saggio è un trop, lo scienziato pazzo è un trop, il ladro astuto è un trop, il malvagio barone a sua volta è un trop. Oramai dovrebbe esservi chiaro che non potete creare una storia senza ricorrere a qualche genere di trop. Non starò a perdere tempo sull'argomento in questo video, ci sono letteralmente interi libri dedicati alla cosa. Sappiate che in 7000 anni di storia registrata qualunque idea geniale vi sia venuta in mente, molto probabilmente qualcuno l'ha già avuta prima e l'ha già utilizzata in una storia. Questa comunque non è una cosa negativa, anzi voi come master siete facilitati se imparate a usare bene i trop tipici del tipo di narrazione che state facendo. L'abbiamo già detto in altri video ma il tempo che avete per raccontare la vostra storia è limitato. Non potete parlare per troppo tempo quando fornite informazioni perché sennò i giocatori smetteranno di portare attenzione alle informazioni e anche proprio il tempo che potete dedicare al gioco non è infinito. Normalmente una sessione dura 3-4 ore, voi dovete cercare di far stare il più possibile tutte le informazioni che dovete dare in queste 3 o 4 ore. Se ci esiste un metodo per evitare di fornire informazioni che sono scontate, questo per voi è grasso che cola. Diciamo che i vostri giocatori stanno facendo un viaggio per mare e a un certo punto uno di loro ha vista una nave all'orizzonte che ha una bandiera con un teschio e le tivie incrociate. Basterà solo questa informazione a far capire ai giocatori che tipo di eventi stanno per apparire. Il Jolly Roger è il simbolo associato ai pirati, i pirati assaltano le navi quindi adesso i pirati vorranno abbordarli, loro dovranno difendersi, i pirati sono gente violenta e ubriaca. Tutto questo pacchetto di significati è contenuto solo nel simbolo dei pirati, non c'è bisogno che voi spiegate altro. Il trope del Jolly Roger è un trope talmente iconico e talmente significativo che voi potete usarlo anche in contesti in cui tecnicamente non c'entra niente. Se invece di viaggiare su un galeone a vela del 600 i vostri personaggi stanno viaggiando su un'astronave che viaggia nello spazio e vedono un'altra astronave che si sta avvicinando e questa astronave ha dipinto sullo scafo il Jolly Roger, anche in questo caso i personaggi capiranno immediatamente che quella è l'astronave dei pirati e gli associeranno tutti i significati che vengono associati ai pirati senza che voi effettivamente spiegate loro a parole quello che sta a far succedere. Il lavoro di un autore e in particolare il lavoro del master nel nostro caso non è quello di inventare nuovi trope, è quello di prendere i trope che già esistono e già sono codificati e rimescolarli tra di loro per creare nuove storie e dare nuovi significati a questi trope. Se la rielaborazione di questi significati è fatta male, fatta in maniera stretolosa o comunque non è sufficientemente approfondita, a quel punto si parla di cliché. I cliché non sono altro che trope utilizzati in maniera impropria o semplicemente utilizzati e strautilizzati così tante volte che il loro significato e il loro esito alla fine è scontato. Se i trope all'interno di una storia non appassionano i giocatori, l'intera storia non è interessante. Se per sconfiggere il signore del male bisogna radunare i cinque frammenti del mistico artefatto e poi eseguire un rituale magico, questo è un trope talmente riutilizzato soprattutto nel fantasy da essere diventato un cliché. Tutti al tavolo probabilmente hanno già visto un film, letto un libro o giocato un'altra quest, probabilmente più di un libro, più di un film o più di una quest in cui era presente questo genere di artefatto che non sarà interessante, non c'è più niente di nuovo che loro possano manipolare su questo trope. Questo non vuol dire che i cliché non debbano mai essere utilizzati, ma il master deve utilizzarli in maniera intelligente. Se i cliché sono troppo e che oramai sono scontati, a questo punto vanno utilizzati quando effettivamente la situazione è scontata. Questo non vuol dire che, dato che il cliché vuole che l'assassino sia il maggiordomo, il maggiordomo allora non può mai essere l'assassino perché è un cliché. Però potrebbe essere utilizzato sia per deviare l'attenzione dei giocatori, magari all'inizio gli indizi puntano al maggiordomo e tutti daranno per scontato che sia il maggiordomo appunto perché è un cliché, ma colpo di scena, il colpo di scena a sua volta è un troppo, in realtà il maggiordomo non c'entra nulla. Oppure potrebbe essere effettivamente stato il maggiordomo nel caso non sia importante chi sia stato il maggiordomo. Il fatto che sia stato commesso l'omicidio è solamente un antefatto e la storia poi parlerà di altro, parlerà di scoprire quali sono le motivazioni dietro all'omicidio o magari scoprire che a commissionare l'omicidio al maggiordomo è stato qualcun altro, potrebbe esserci un culto segreto e commissionare gli omicidi. A loro volta il culto segreto è un troppo. In questa serie abbiamo già visto alcuni troppo tipici del gioco di ruolo come la notte da un milione di mobbi, il troll quantistico, il gancio narrativo a sua volta è un troppo e faremo altri video più avanti per vedere altri troppo classici. Il fantasy è particolarmente costellato a figure retoriche. Però diciamo che per questi video è tutto, almeno adesso è chiaro cosa sono i troppo e di cosa si tratta. All'inizio ero molto tentato da fare un video tipo top 10 troppo peggiori nei giochi di ruolo, poi ho rinunciato. Diciamo che mi è sembrato un po' poco professionale, mettiamola così. Questo però non vuol dire che io non sia interessato a sapere quali cliché orribili i mostri master abbiamo tirato fuori o quali ottimi troppo e narrativi i vostri master sono rielaborare per rendere la storia interessante. Scrivetemelo nei commenti di sotto. Come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video schiacciate sul tasto della campanella. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!